A cosa servirà questo codice del turismo commentato? Come se ne avvantaggerà il consumatore? Il consumatore se ne avvantaggia perché in una panoramica di codice sono commentati tutti gli articoli in modo assolutamente chiaro e anche illustrando con determinate schede sintetiche. C'è la parte della giurisprudenza, c'è la parte dei moduli, quindi il consumatore e il turista siciliano e non può immediatamente e chiaramente vedere qual è il punto che gli interessa per poter sapere cosa fare e cosa non fare. Avvocato Palmigiano, le sentenze di cui siamo in possesso certificano la qualità dello strumento? Sì, certo. Diciamo che i giudici hanno un grandissimo ruolo nel settore del turismo perché vanno a interpretare norme che spesso sono complesse perché in parte arrivano dalla comunità europea, in parte arrivano dal legislatore nazionale, poi c'è una competenza anche regionale, quindi in tutto questo complesso di leggi e di norme i giudici si districano spesso stabilendo dei principi importanti e appunto lo scopo della pubblicazione, questa che abbiamo presentato oggi qui alla regione è proprio quella di cercare di dare chiarezza e di stabilire per l'utente in maniera semplice quali siano i suoi diritti e talvolta anche i suoi doveri, fra virgolette. Il codice del turismo commentato deve mettere ordine in un settore in cui spesso il consumatore non comprende come comportarsi? Il codice del turismo commentato presentato oggi è molto importante per dare intanto al consumatore la panoramica di quali sono i suoi diritti e quindi poter poi chiedere risarcimento nel caso in cui vengono lesi, però per noi regione è anche molto importante legge e la giurisprudenza che viene integrata in questo codice perché stiamo procedendo a una razionalizzazione della normativa pensando alla legge quadro di riforma del turismo, essendo le nostre normative in molta parte frammentate e in molta parte superata quindi per noi è uno strumento essenziale di rilettura in questo processo di organizzazione legislativa che ci sta vedendo impegnati in questo momento. Chiarezza uguale valore aggiunto per il turismo anche in Sicilia? Certamente, è necessario che la materia del turismo e soprattutto l'approccio con la Sicilia sia il più chiaro possibile perché il brand della Sicilia è forte, noi lavoriamo per rafforzarlo ogni giorno ma l'esperienza che il turista fa del suo viaggio, del suo percorso attraverso l'isola deve essere il più positivo possibile in modo da consentirgli di scegliere di ritornare e consentirgli di essere l'ambasciatore dell'esperienza Sicilia, quella che tecnicamente si chiama reputation la reputazione di una destinazione turistica deve crescere e sicuramente la chiarezza rispetto a quello che si trova sull'isola i percorsi che si possono fare, ai diritti e ai doveri, ma ovviamente ci interessano molto di più i diritti del turista è un elemento chiave per rendere questa esperienza positiva e per rendere il turista il migliore interprete e promotore della Sicilia come destinazione turistica anche per gli altri